Grandissime preoccupazioni perché va, sembra andare nella linea che dicevo poc'anzi di uno smantellamento industriale e secondo la preoccupazione di migliaia e migliaia, si legge 5-6 mila esuberi, che vuol dire appunto famiglie che entrano ormai, sono entrate in ansia seria, serissima per il proprio futuro. A mio parere, ecco, di fronte a queste situazioni ci doveva essere una previsione molto per tempo e quindi la creazione di alternative occupazionali che non siano, come diceva ancora Santo Padre, non rispondono ad una logica di assistenza, senza contare che tutti coloro, tutte le mani straniere che arrivano, stanno arrivando in Italia, speriamo che siano mani molto oneste, ma nel senso di avere a cuore il lavoro e gli insediamenti qui nel territorio italiano. Ecco, perché se in prospettiva poi, come spesso è successo, si dovesse chiudere in Italia per aprire o mantenere altrove, sarebbe proprio quell'impoverimento terribile del nostro paese che perderebbe occupazione, ma perderebbe anche delle professionalità che in Italia ci sono e a Genova ci sono moltissime professionalità che poi non si ricostruiscono più.